Vorrei ricordare a tutti che il 7 di ottobre c'è stata una manifestazione a Roma come non si vedeva da 20 anni con una quantità di partecipazione che ha fatto sì che piazza San Giovanni era piena e non ha potuto accogliere tutti quelli che sono venuti a Roma a manifestare e il titolo di quella manifestazione era la via maestra e per noi la via maestra è la Costituzione per noi la Costituzione va applicata, non va cambiata va applicata in tutte le sue parti e in questo senso siccome il governo in passato ci aveva anche chiesto noi abbiamo detto che siamo contrari sia all'autonomia differenziata che il governo vuole fare e cioè dividere ancora di più il paese quando invece abbiamo bisogno di unire il paese e di garantire i diritti per tutti così come questa idea a noi sembra tra l'altro uscita in questo momento è un modo per distrarre l'attenzione siccome non si vuole parlare della legge di bilancio balorda che hanno fatto e non si vuole e si cerca di nascondere che in questo anno di governo sono aumentati i condoni fiscali ed è peggiorata la condizione di lavoro ci si inventa il fatto che solo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio farebbe risolvere i problemi vorrei far notare che questa maggioranza questo governo in Parlamento ce l'ha la maggioranza cioè non è che non ce l'ha nessuno, non capisco sinceramente, ce l'hanno una maggioranza però è sotto gli occhi di tutti come la stanno usando non per risolvere i problemi delle persone e da questo punto di vista è chiaro che per quello che ci riguarda e noi l'abbiamo detto perché il Ministro e il Governo ci hanno chiesto un parere gli abbiamo detto che il problema non è cambiare la Costituzione e neanche mettere in discussione il Presidente della Repubblica anzi mi permetto di dire che se abbiamo una cosa che funziona bene in Italia è il Presidente della Repubblica e quindi troverei il modo saggio che quando le cose funzionano di lasciarle come sono e di intervenire su quello che non funziona e dall'altra parte quello che oggi non funziona è la legge elettorale perché se nel nostro Paese abbiamo il 50% di cittadini che a votare non ci va è perché non si sentono più rappresentati e perché abbiamo un sistema elettorale in cui il cittadino non è più in grado di essere lui a decidere chi fare leggere e chi viene eletto non deve rispondere ai cittadini che l'hanno eletto quindi se si vuole recuperare questa stensione che è arrivata quasi al 50% e questa sfiducia il problema è risolvere i problemi delle persone e rimettere nelle condizioni le persone di poter partecipare non per decidere chi è il capo ma per decidere chi è il Parlamento e chi li rappresenta ed avere un Parlamento che sia davvero rappresentativo di tutto il Paese e in questo senso che recuperi quella che è la dimensione anche della nostra Costituzione e questo è quello che noi abbiamo fatto e vorrei essere chiaro la Cigelia nella sua storia ha sempre avuto come pallino centrale l'applicazione della Costituzione per noi è un elemento costitutivo e vorrei essere chiaro abbiamo detto di no quando la voleva cambiare Berlusconi abbiamo detto di no quando la voleva cambiare Renzi per noi non conta quale colore politico hanno per noi conta che la Costituzione uscita dalla resistenza va applicata, non va cambiata e questo per quello che ci riguarda sarà l'azione che mettiamo in campo e mi permetto di dire che le centinaia di migliaia di persone che erano a Roma il 7 di ottobre questo messaggio l'hanno mandato in modo molto chiaro e sarebbe utile che chi fa politica a partire dal governo sapesse, avesse anche la capacità e l'umiltà di ascoltare Grazie! Grazie!